La dinamica è ancora tutta da chiarire, ma dai primi rilievi dei vigili urbani sembra che la vittima, grazie alla fronza di 83 anni, sia stata travolta in pieno da un camion che viaggiava in retromarcia. Incidente mortale questa mattina nel quartiere San Paolo di Bari. L'impatto è avvenuto intorno alle 8 in via Umbria. Dal racconto di alcuni testimoni che hanno assistito alla scena, pare che l'anziana stesse camminando nei pressi di un supermercato quando all'improvviso è sbucato un camion che procedeva in retromarcia. Forse il conducente non si è accorto della sua presenza e l'ha investita. La vittima sarebbe stata colta di sorpresa al punto da non riuscire ad evitare l'impatto. Sul posto è intervenuto il 118 che ha potuto solo constatare il decesso della donna.